La Juve è favorita se tutti, 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 ci rimettiamo con le orecchie basse e lavoriamo e ci mettiamo al pari degli altri. Allora la Juve in quel caso diventa favorita. Non è favorita se affrontiamo la stagione con presunzione e partendo dal fatto che la Juve vince di sicuro. Di sicuro non c'è niente. Domani quando alle 18 inizierà il campionato noi abbiamo 0 punti uguale al Cagliari, uguale al Milano, uguale alla Roma e quindi per arrivare in fondo al campionato e vincere bisogna fare un punto più degli altri. E quest'anno rispetto all'anno scorso sarà un campionato molto più equilibrato dove forse magari la media a Scudetto si abbasserà un pochino perché ci sono squadre che si sono attrezzate per vincerlo e quindi saremo in 5-6 a lottare per vincere lo Scudetto ma la Juventus può essere favorita se tutti, 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 ci mettiamo calmi, lavoriamo con equilibrio senza stare a pensare a quello che potrà succedere, a quello che dobbiamo vincere tanto che la Juventus parta per vincere tutti gli anni, credo che sia assodato ormai da 117 anni, 118 anni. Che è sempre più difficile, credo che sia anche una questione di statistica, va bene? E quindi a maggior ragione ci vuole molta più attenzione, molto più equilibrio senza farsi prendere da eccessivi salti di entusiasmo e eccessivi salti all'incontrario di depressione perché qui ogni tanto questa roba c'è abbastanza. E quindi una squadra, come dico sempre, e diventerò noioso, se è forte e se ha qualità quando parte, ha qualità in mezzo alla stagione quando ha un momento di difficoltà, ha qualità in fondo alla stagione. L'importante è arrivare a marzo ed essere in lotta per i tre obiettivi. Addirittura a marzo, quest'anno la Coppa Italia verrà anticipata, quindi bisogna essere un attimo meno prima. Però a marzo bisogna essere in lotta per giocarsi le nostre chance in Champions e per fare il rush finale per il campionato.